Iniziamo dalla partita di Fondi per preparare la partita che verrà contro Rubiera perché in settimana ho chiesto ai ragazzi di allungare il tempo di gioco buono effettivo che abbiamo avuto a Fondi. Penso che abbiamo fatto veramente un gran primo tempo dove i ragazzi hanno espresso al massimo il lavoro che era stato preparato in settimana. Ora però le partite durano 60 minuti. Ne siamo consapevoli, ne abbiamo parlato in settimana, dobbiamo cercare di arrivare fino alla fine esprimendo il nostro miglior gioco e non di durare solo 30 minuti. Adesso come dicevi arrivano due partite in sequenza che sono contro due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti quindi arriveranno qua nella casa della palla a mano senza lasciare niente e che giocheranno al massimo e però al tempo stesso sono squadre un pochettino più vicine a voi in classifica quindi due partite da giocare con il coltello tra i denti. Devo dire che finora tutti i nostri diversari hanno giocato al massimo, non abbiamo mai avuto la sensazione che qualcuno tirasse il freno a mano, che giocasse non al massimo delle proprie potenzialità. Sicuramente queste squadre che lottano per la salvezza non possono permettersi di sbagliare quindi dal primo minuto affronteranno la partita al massimo ma per noi è ottimo. Noi non abbiamo l'assilo dei punti ma dobbiamo migliorare i nostri errori, dobbiamo crearci degli obiettivi personali e di squadra durante la partita e cercheremo di affrontare la partita al meglio come abbiamo fatto fino ad ora con appunto l'obiettivo principale di cercare di durare 60 minuti perché per noi questo è ancora un po' difficile, è una squadra molto giovane, si vede quando c'è un po' di calo, di concentrazione, un po' di stanchezza i ragazzi proprio calano, dobbiamo essere bravi noi a cambiare ma adesso siamo un po' corti, abbiamo recuperato i giocatori quindi credo che già da sabato potremmo fare meglio. Sì è stata una partita abbastanza dura soprattutto nel secondo tempo, il primo tempo lo stavamo gestendo bene, purtroppo non siamo tornati in campo concentrati e è andata così. Domanda che sto ripetendo pian piano a tutti voi nel corso delle settimane, come sta andando in Serie 1, come sta andando in Serie Gold? Allora stiamo avendo delle sorprese perché non è facile prendere le misure con queste squadre però piano piano sono fiducioso che riusciremo a contenere meglio gli avversari e a gestirci anche noi al meglio.